Le proposte che abbiamo fatto sono più che ragionevoli, tanto che da subito avevano accettato di prenderle in considerazione. Dopo, se si sono divisi al loro interno, fanno fatica a trovare una sintesi. Manca un po' una regia politica da parte della maggioranza. Per fortuna le colombe, le teste pensanti della maggioranza, si stanno finalmente accorgendo che da questa situazione bisogna uscire. Noi ovviamente dobbiamo fare la nostra parte e quindi difendere a spada tratta le 9 ULS è l'indicazione del Presidente e quindi noi su questa strada andremo avanti anche nei prossimi giorni. Certo che la situazione veramente sta diventando complicata, soprattutto perché la macchina della Regione è completamente bloccata. C'è ottimismo a Palazzo Ferrofini. Nonostante le dichiarazioni a microfono e gli interventi in aula non siano propriamente distensivi. L'accordo sulla riforma della sanità potrebbe arrivare nelle prossime ore, così come è accaduto per gli altri punti del PDL 23. La proposta per bloccare lo stallo prevede il via libera a 9 ULS. Il numero resta comunque in discussione e una fase di sperimentazione nei prossimi anni. Zaia osserva consapevole che il peso politico di un mancato via libera alla riforma ricadrebbe sull'opposizione, con 21 direttori generali segnalati in futuro dal Ministero. Ipotesi lontana ora che l'accordo sembra essere a un passo, con un piccolo sforzo da parte di tutti.